Giorni caldi nell'asse Taranto-Roma per il Mille Proroghe, c'è l'ipotesi di accantonare quell'articolo 21 in particolare in riferimento, come sapete, ai soldi per le bonifiche che sono stati spostati invece alla decarbonizzazione. Ecco, in questa ora prende posizione l'Unione Sindacale di base nuovamente perché, avete detto, noi siamo pronti di nuovo a scendere in piazza. Quei soldi non possono andare ai privati che già hanno dei profitti. Assolutamente sì. Quei soldi devono rimanere alle bonifiche. Noi, in continuità con la manifestazione che abbiamo fatto sotto la Prefettura, chiediamo coerenza a tutti i partiti e i movimenti politici che quel giorno hanno sostenuto la lotta dei lavoratori di Vaia S. Una questione di giustizia e Arcelor Mittal, in questo caso a Cerie d'Italia, se vuole fare investimenti li faccia con i soldi propri per andare a decarbonizzare, così come sta facendo in Francia poi tra l'altro. Quali novità potrebbero prospettarsi nelle prossime ore? C'è stato un tentativo di scippo, poi è venuto fuori che l'emendamento è stato presentato dalla Lega, addirittura sembra dal ministro Giorgetti in persona. È chiaro che noi non accettiamo nessun tipo di condizione diversa. Per noi i soldi vanno lasciati lì dove stanno per due motivi sostanzialmente. Uno perché bisogna continuare sulla questione bonifica e due perché quei soldi in una società, il Vaina S, che continuano oggi 1.800 dipendenti, sono anche la garanzia per quei dipendenti che un minimo di prospettiva futura ci sta. Grazie. Grazie. Grazie.